Ciao a tutti! Oggi prepareremo le lingue di pizza senza glutine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono miscela per pizza senza glutine, lievito di birra, acqua, olio evo, sale, zucchero, passata di pomodoro condita con sale e olio origano, mozzarella, olive nere e salame. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azioniamo il bimbi per tre minuti 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la miscela per pizza. L'olio. ed il sale. E facciamo impastare per quattro minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno tre ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro che abbiamo infarinato con farina per geliaci. allarghiamo l'impasto con le mani formando un rettangolo. Tagliare delle strisce e posizionarle su una teglia rivestita con carta da forno. condire con salsa di pomodoro, salame. e olive. Cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 15 minuti. Riprendere le lingue dal forno, mettere la mozzarella e cuocere nella parte più alta del forno per altri 10 minuti. Le lingue di pizza sono cotte, serviamole. Lingue di pizza senza glutine. Grazie e alla prossima ricetta! E' Grazie a tutti.